Allora, nell'ambito del rilancio del cinema alla Mezzia, insieme ai prime visioni, quindi i film in contemporanea nazionale che si stanno ormai, seguendo la settimana in settimana, si è pensato anche di aprire delle nicchie cinematografiche molto targettizzate, più targettizzate, con lo scopo sia di accontentare degli gusti alternativi e sia di incentivare l'andata al cinema, ma proprio come luogo di ritrovo e come luogo di stare insieme per poter poi discutere insieme al curatore della manifestazione che adesso vi stiamo per evidenziare. Polveri di stelle è una rassegna di film dove la tematica è la donna, sarà fatta ogni martedì sera, saranno dei film scelti, adesso ce ne parlerà Gian Lorenzo Franzi, ed è una... e all'interno di questa manifestazione noi abbiamo scritto che ci sarà una degustazione di un tema, in realtà lo spirito è quello di poter coinvolgere i produttori di vino, di olio, di marmellate, per tentare di, in quel momento conviviale, di poter discutere su quello che possono essere i gusti per la rassegna che deve continuare oltre il 24 gennaio, che è la data ultima di questa prima manifestazione Polveri di stelle. Polveri di stelle, il cinema è donna, è un'iniziativa che tende a riavvicinare la gente al cinema. Volevo dire, Sindaco, che la gente si sta riavvicinando al cinema, e quindi voglio dire, ogni giorno c'è, bisogna dirlo, perché così come abbiamo detto che c'era poca gente all'inizio, adesso quello sforzo che abbiamo fatto insieme di partire a luglio per cercare di far prendere l'abitudine, si sta riprendendo. D'altro canto gli sforzi vanno fatti per poter portare a delle abitudini che erano ormai magari perse. E quindi questo è un fatto positivo, ecco perché bisogna forzare ancora di più. Ci sono anche altre cose che faremo, sorprese, tipo le mattinate, anche delle prime visioni, oltre a quelle che stiamo facendo insieme a Gian Lorenzo per le scuole. Insomma, si sta proiettando tutto. Una cosa è certa, che ripassare dall'isola pedonale, da quella via, e rivedere tutto quanto in movimento è un grande bene per la città. Adesso io passerei la parola a Gian Lorenzo Franzi, che è il curatore di questa rassegna, che ci dirà esattamente qual è stata la sua idea e perché abbiamo iniziato proprio con il cinema e donna. Allora, io al volo prima di tutto ringrazio l'ingegnere, sono contento. Finalmente sono 15 anni che lavoro nel cinema, diciamo. Ho cominciato proprio con l'ingegnere su CityOne. Sono contento che finalmente, dopo 15 anni, riusciamo a fare qualcosa insieme. Questa rassegna, appunto, come ha detto già l'ingegnere, mira a un pubblico più selezionato, nel senso che ovviamente sono dei film non di grosso consumo, che però cercano di allargare ancora di più il target raggiungibile dal cinema, perché è importante raggiungere tutte le fasce d'età. Appunto ci sono i mattini con le scuole, perché è importante educare i ragazzi fin da subito all'audiovisivo, a film magari più abbordabili. Polvere di Stelle, ogni martedì, alternerà per adesso un film di, diciamo, di seconda visione, cioè film nuovi che però non sono passati dai circuiti ordinari qua in Calabria, né al The Space né in Sala, perché non sono passati, e poi invece dei recuperi dei grandi classici del passato. Partiamo subito con l'ultimo film di Almodovar di qualche mese fa, Cuglietta, bellissimo, poi passeremo a Freaks di Todd Browning, che è un film del 32 addirittura, che sta passando adesso nelle saline di tutta Italia, un recupero, un grande classico. E poi avremo il film di Maria Sola di Tognazzi, poi tornerà, volevo sottolineare anche il fatto che tornerà a gennaio, per chiudere questa prima tranche del Cineforum, tornerà Giuseppe Piccioni, uno dei più importanti registi italiani, che è presente nel suo nuovo film, questi giorni, che è passato a Venezia un paio di mesi fa e che proprio adesso sta circolando in sala. Sarà presente con noi? Sarà presente, sì, Giuseppe sarà in sala, tornerà, ha avuto una colorosissima accoglienza, tornerà per presentare la sua nuova opera. C'è poco da aggiungere perché, ha detto tutto perfettamente l'ingegnere, è importantissimo rieducare le persone al cinema. Fa bene lui con grandi sforzi a insistere in maniera pervicace perché si è persa l'abitudine purtroppo di andare al cinema, perché adesso il pubblico, il grosso pubblico, che magari è l'affluenza del The Space, del multisale, è un pubblico distratto, perché magari il 90% sono persone che vanno per fare compere, per fare la spesa e poi passano distrattamente in sala, ma per vedere un film, per passare il tempo. Invece il cinema in città è importante come luogo di ritrova, come luogo di sfruttamento culturale, quindi è importantissimo insistere per riportare l'abitudine, per riportare le persone in sala. Ricordo, ogni martedì, partiamo il 9 novembre, ogni martedì alle 18, nel prezzo del biglietto, è compresa appunto la creazione di un tè, partiamo con il tè e poi ci sarà una piccolissima discussione per parlare del film, per parlare di qualche suggestione e inoltre sarà possibile anche fare l'abbonamento per tutti i primi 10 spettacoli. Il prezzo del biglietto sono 5 euro, invece il prezzo dell'abbonamento a tutti i 10 film sono 35 euro, un prezzo abbordabilissimo, anzi pure anche al di sotto degli standard nazionali. E questo si affianca anche al secondo mercoledì di ogni mese con i due euro per vedere i film in prima visione. Stiamo studiando, Sindaco, proprio per far capire che l'importanza di queste manifestazioni serve anche ad incentivare il film e poi commerciale, quello che noi chiamiamo commerciale, ma poi è il cinema, insomma, che tutti vogliono vedere. Stiamo studiando, siccome non fermiamo la programmazione del film di prima visione quel martedì, ma alle 18 inizia il film della rassegna, dopodiché finirà all'incirca verso le 20, la degustazione e se uno volesse rimanere a vedere l'altro film, con 3 euro può vedere l'altro film, nel senso che invece dei 6 euro, degli 8 che ci sono nelle altre sale, quella sera praticamente puoi vedere sia il film della rassegna e con 5 euro e se poi volessi rimanere alle 9 e mezza a vedere l'altro film paghi soltanto 3 euro. Si sta facendo, insomma, di tutto per cercare di portarla avanti. Adesso credo che sia giusto che il Sindaco ci dia, diciamo, la sua benedizione. Ma più che la benedizione, il Sindaco dice di essere orgoglioso, orgoglioso in questo istante di essere tra due persone che conosco da sempre e che stimo da sempre. Conosco il dinamismo imprenditoriale e affettivo verso la propria città e verso quello che è il Teatro Grandinetti di Francesco. Conosco una passione smisurata di Gian Lorenzo da quando è nato per il cinema. Quindi oggi noi abbiamo, con orgoglio, un'ulteriore intensificazione e diversificazione dell'offerta che viene fatta a livello cinematografico. E questo è, l'ho detto, lo ribadisco e lo risottolino, motivo di orgoglio. Un'iniziativa quale è questa, di poter comunque dare a quei tanti cittadini e cittadine che ci hanno richiesto da tempo di poter far sì che questo Teatro Grandinetti potesse tornare ad essere veramente il teatro nobile, un luogo di ritrovo di cultura, approfondimento, visualizzazione della città. Sta veramente giorno dopo giorno prendendo piedi. Io pure avevo notato, prima che Francesco mi desse i dati dell'affluenza al cinema, avevo notato che c'era di nuovo finalmente questo riattaccamento al cinema Grandinetti, al cinema in città, perché comincio a ricevere da tanti amici il messaggino, stasera andiamo a cinema, vieni. Quindi c'era già questo ritorno di interesse che messi addietro sembrava impensabile. Questo è un miracolo veramente che si sta portando avanti, ma un miracolo che sta dando i frutti proprio per la determinazione. Ora, polvere di stelle è una ciliegina sulla torta, perché è un qualcosa di ulteriore, dice bene Gian Lorenzo, è un po' rivolto ad una tipologia di spettatori un po' più selezionati, ma il selezionare significa sempre rivolgersi a una platea che è vastissima, perché questa è una città che ha fame di cultura, ha fame di momenti di incontro, e quindi sono certo che la città saprà rispondere anche a questa iniziativa. Io credo che proprio quella che è anche la tipologia dei prezzi e della possibilità dell'abbonamento viene data a tanti, immagino soprattutto il martediale 18, una certa fascia generazionale. Io faccio l'esempio proprio personale, io immagino mia suocera, che da sempre supplicava che la mezza potesse avere un cinema, perché lei non riesce ad andare fuori città a vedere nelle multisale, questi sono film di qualità che si rivolgono proprio ad una sensibilità di tanti nostri concittadini, io credo che sia un'occasione eccellente di poter fare l'abbonamento, proprio perché questa possa diventare un'abitudine, cioè io credo che il cinema in città debba diventare l'abitudine di tanti nostri concittadini e credo che Polveri di Stelle debba divenire, oggi in questa prima sua tranche, perché mi auguro che venga ripetuta, possa divenire proprio un appuntamento usuale, ove tanti che hanno voglia veramente di vedere film, di comunque stare insieme, di poter poi, anche se brevemente dialogare e approfondire alcuni passaggi, alcune tematiche del film, l'appuntamento che si sa alle 18 al Grandinetti, vi è Polveri di Stelle, alle 18 al Grandinetti vi è questa tipologia di film, alla quale io non voglio e non posso mancare. Io sono convinto che questa città risponderà. Io purtroppo, da sindaco, e finisco subito comunque con una brevissima divagazione, io vedo, e questa è una cosa che veramente mi fa star male, vedo una tendenza alle negatività che è impressionante e fa paura. Io sono colui che per il ruolo inevitabilmente più di ogni altro deve combattere ogni giorno con tante negatività, però lo dico ai miei 71.000 concittadini, basta con questo la mezza è morta, con questo la mezza sta morendo, con questo la mezza dove deve andare, basta col far vedere solo delle immagini che sono negative, come se non fosse purtroppo una tematica di queste regioni del meridione d'Italia abbandonate a se stesse. Io ho visto ieri i filmati relativi a quello che è accaduto a Catanzaro Lido a seguito della pioggia che vi è stata e quello che ha riguardato tutta quella fascia territoriale e se fosse successa alla mezza sarebbe accaduto il finimondo contro il sindaco, contro chiunque. Allora, anche il gusto sadico di far vedere il bidone della spazzatura solo quando è stracolmo, casomani, nei parchi, e non invece come erano ieri, avantieri, senza neanche un rifiuto. Io dico, togliamocela comunque. La denuncia è importante ed importantissima. Non diamo l'idea di una città morente perché questa non è una città morente. E se noi dovessimo parlare solo di questo aspetto di cui ci stiamo intrattenendo a parlare oggi, poi posso parlare di qualsiasi altro aspetto, io vi dico, dico a tutti i cittadini di la mezza, riflettiamo un attimino. La Lamezia 2014-2015, per fare un esempio, aveva un teatro grandinetti che era inagibile. La Lamezia 2016-2017 ha un teatro grandinetti che è agibile. La Lamezia 2014-2015 non aveva un cinema in città. La Lamezia 2016-2017 ha un cinema in città che dà anche queste variabili rispetto a quella che può essere la programmazione ordinaria. La Lamezia 2014-2015, grazie ad alcuni appassionati, volenterosi, amanti del teatro, aveva delle stagioni teatrali che, bene o male, si rivolgevano a determinate tipologie ed era già un miracolo che riuscivano a farlo. La Lamezia 2016-2017 ha una stagione teatrale che ci invidia la Calabria. Ha anche la stagione teatrale che si svolge al Politeamo di San Biase, che è di livello eccellente nella diversificazione di quelle che sono le capacità proprio espressive anche del teatro. Allora dico, perché dare a tutti noi, ai nostri ragazzi, l'immagine di una città morente? Io faccio un altro esempio, ma non voglio divagare. Io quando adesso sto andando sul corso Giovanni Nicotera vedo che quelle serrande, che si erano quasi tutte abbassate, pian piano si stanno rialzando. E allora, con un minimo di ottimismo, guardiamo una città che sicuramente ha miliardi di problemi, ha miliardi di difficoltà, ma cerchiamo di prendere esempio dall'entusiasmo di Gian Lorenzo Franzi. Gian Lorenzo Franzi opera in un settore nel quale è difficile operare, ma lui che fa? Si lamenta e dice che il settore sta morendo, qua moriamo tutti. No, si impegna e con la grande competenza che ha e soprattutto comunque con la grande passione anche ad ideare una rassegna, quale questa che porta ulteriori benefici alla città. Ma pigliamo esempio, lo dico sempre, da Francesco Grandinetti. Cioè lui sta combattendo delle battaglie che sono veramente delle battaglie improbe, erano delle battaglie perdute in partenza. Cioè a me tutti pigliavano in giro e mi dicevano ma che volete fare? Tu Francesco Grandinetti e altri di aprire il cinema, vi chiude dopo dieci giorni, cosa si vuol fare oramai contro il progresso, non si può andare. Io sono convinto che questa battaglia la si vincerà, ma perché la si vince? Perché chi poteva dire il cinema è morto, ha detto no, se anche il cinema in questo momento io lo vedo morente, io farò in modo che, pochè in passato sia riuscito addirittura a fare miracoli, ma questi non appartengono a noi, io farò in modo che il morente possa invece tornare a nuova vita. Se noi andiamo avanti con questa mentalità, la città passo dopo passo, giorno dopo giorno, è una città che cresce perché ha tutte le potenzialità per crescere. Oggi diciamo a Lamezza e Lametini, guardate cosa è riuscito a mettere in piedi Gian Lorenzo Franzi insieme a Francesco Grandinetti. Questo è chiudo per come è iniziato, è per il sindaco motivo di grandissimo orgoglio. E per questo i cittadini dicono noi cresceremo se voi aiuterete la città a crescere. Qui per molti che hanno anche il desiderio di crescere culturalmente vi è un'offerta ad euro 35 per ben 10 spettacoli con degustazione e altro. Se non sappiamo raccogliere queste offerte che vengono ad essere date vuol dire che la città è lei stessa che decide di voler morire. Ma questa sarebbe una responsabilità che prendiamo di fronte ai nostri figli che sarebbe auspicabile che invece non avvenga. Io sono certo del successo di questa rassegna e sono certo che questa rassegna possa dopo gennaio continuare insieme a tutto il resto che state facendo, diversificazioni, matinee e altro. Avviciniamo tutta la città alla cultura in ogni sua espressione. Questo ci aiuterà a finire di leggere dichiarazioni tante volte abberranti di tanti che dimostrano come la cultura purtroppo per larghi strati di questa città a volte sembra essere assente. Grazie sindaco. Giusto per chiudere poi non parlo più a chiosa del no 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 non devo dire più nient'altro io volevo soltanto no no io volevo soltanto dire tutte le persone siccome anche io vedo sui social tutte le persone che dicono la mezza è morta la mezza sta morendo se tutti loro il martedì alle 18 andassero al cinema il cinema si riempirebbe quasi è un invito a chi dice che la mezza sta morendo che il cinema non può riprendersi è un invito ad andare al cinema per non farla morire visto che la pensano così. Io invito tutti ad andare sui social a verificare quando la gente esce dal cinema e cosa scrive di positivo perché quella è la diciamo poi l'esperienza più bella no? Cioè uno che va che vede che tocca con mano l'esperienza positiva mi permetto di dire al sindaco una cosa importante tu sai che io ti stimo quindi ti stimo come sindaco e ti stimo come persona e noi con la televisione stiamo facendo alcuni servizi sindaco stiamo facendo alcuni servizi scusa se divago pure io però era importante che te lo dicesse stiamo facendo dei servizi dove facciamo vedere delle cose che non funzionano in questo momento aspetta però non abbiamo non abbiamo forse da ex amministratore quindi non lo diciamo con lo spirito critico ma lo diciamo e ogni volta che lo facciamo sono io la prima persona che le faccio vedere lo faccio proprio presente noi in questo momento vogliamo essere soltanto quelli che ti evidenziamo molto spesso delle problematiche che tu purtroppo con 2850 problemi al minuto che hai non riesci a vedere e che magari la mancanza di attenzione di chi invece ha il dovere di fare quelle cose mi segui sto parlando proprio dei livelli diciamo operativi che magari non fa e che quindi poi fanno avere un'immagine negativa della città quindi specialmente nel caso nostro specifico siccome io ti stimo quando facciamo evidenziare alcune cose lo facciamo con lo spirito di dirti noi siamo dalla stessa parte cioè incominciamo a parlare bene della città perché la città lo merita e dobbiamo assolutamente però trovare il modo di denunciare le persone che non fanno il loro dovere io ringrazio chi esercita il diritto di critica tant'è che tanti concittadini che tanti concittadini che durante il giorno mi mandano messaggi sia su whatsapp sia su facebook sia li pubblicano direttamente sanno che la notte ricevono la mia risposta e la mia risposta è di ringraziamento per la segnalazione e la criticità quindi l'esercizio del diritto di critica e si fa bene perché si devono evidenziare tante cose che non vanno sa qual è la cosa che io detesto la rassegnazione perché questa non è una terra che può essere rassegnata perché questa è una terra che lo diciamo da sempre ma oggi siamo sempre più convinti che ciò possa avvenire è una terra che può essere da traino per l'intera Calabria allora non rassegniamoci quando il comune di La Mezzaterma per parlare di un qualcosa che tu ben conosci ha adottato per primo tra tutti gli enti pubblici che ne sono soci ha adottato la ricapitalizzazione alla Sacal vi sembra l'immagine di una città morente? una città che nonostante il pieno di riequilibrio riesce 16 mesi dopo ad impegnare una somma importante per ricapitalizzare la Sacal che a sua volta è società di gestione leader del sistema aeroportuale calabrese e tra le società di gestione leader dei sistemi aeroportuali del Mezzogiorno d'Italia vi pare l'immagine questa di una città che è morta e che è morente da cosa questa città si deduce essere morta o morente? è una città che lentamente per come è giusto che sia per come i nostri padri ci hanno insegnato che il passo deve essere fatto per quanto la gamba ti consente di farlo perché il passo fatto in misura superiore a ciò che la gamba ti consente ti fa finire nel baratro i nostri padri ci hanno insegnato questo e noi porteremo avanti l'insegnamento dei nostri padri mi si dica ove questa città sta facendo passi indietro da dover dire che questa è una città morta o morente questa è una città che lentamente sta facendo dei passi in avanti oggi è giusto che si sia parlato dei passi in avanti notevolissimi in questo campo che si è fatto grazie a tutti voi e a tanti altri che potrei nominare ma evito di nominare non grazie al sindaco il sindaco si limita a dare la disponibilità massima l'ascolto massimo il tentativo di intervenire su alcune cose che non vanno ma il sindaco voi lo sapete bene per il resto non è che chissà che sta facendo però ditemi dove questa città sta morendo questa è una città che deve rinascere allora si a tutte le segnalazioni a tutte le critiche che accetterò sempre ringraziando non alla rassegnazione e quello lo stesso non alla rassegnazione che io tante volte dico a mio figlio quando caratterialmente è un po' io gli dico svegliati di forza perché con la voglia di combattimento si superano tutte le avversità quindi lo dico in questi termini non per autodifesa perché non voglio fare autodifesa di me stesso insomma noi oggi siamo l'esempio della non rassegnazione vero? ok quindi un augurio per la città vi aspettiamo da giorno 9 per informazione potete appunto deve recarvi al botteghino del teatro oppure chiamare direttamente al curatore ha lasciato il numero suo più di così che bisogna fare quindi c'è anche il numero del teatro che è 366 123 7888 gli abbonamenti si possono prendere in botteghino oppure informandosi direttamente alla segreteria di Gian Lorenzo insomma se venite è una nuova esperienza è un'esperienza bellina nel senso che si è insieme nello stesso orario si esce si degusta nello stesso orario si dibatte nello stesso orario e se poi si vuole si può continuare a vedere l'altro film che è quello in contemporanea nazionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti